In effetti la Sega s'era inventata un'altro platform importante col personaggio blu, però era un riccio anziché un robot, o almeno non lui. Fa sempre piacere guardare i nuovi progetti su Sonic e tornare con amarezza su Mania perché è forse l'unico gioco di Sonic che suscita interesse da, boh, ricordo neanche più, forse Colors? Che mi pare ne parlarono bene ma io non ricordo se lo toccai, tolti i primi tre che sono come sarebbe dovuto sempre essere il brand, difatti, sono i letterali classici che spaccano col moderno e ricordo bene Heroes, per pura curiosità, Generations e in completa e totale onestà mi è bastato. Sonic Mania di buono a che è Sonic fatto e finito in tutto e per tutto, difatti tante zone sono riprese da alcuni dei classici e quelle nuove sono di un bello, ma di un bello che dispiace finiscono così in fretta, durando così poco. Ecco, tutto merito del fatto che in Sega scemi sì ma non del tutto e si sono andati a prendere creativi dietro progetti amatoriali in modo tale da andare incontro ai nostalgici di merda tipo io, così come a eventuali curiosi che con 3000 Sonic da dove parti sbagli, ma almeno dici col gioco che celebra il quarto di secolo ti puoi fare un'ottima idea, così che poi vedendo gli altri puoi consapevolmente dire mmm che merda. Ma Megna tra l'altro non ricordavo neanche quanto abnormi fossero i livelli, ma proprio gargantueschi, che è ok dividerli in due sezioni ma sono proprio biblici, cioè sia chiaro, intendo nel senso più positivo possibile, perché la cosa migliore è continuare a girarli nel modo più veloce possibile, però non troppo, perché se vai troppo veloce c'è anche qualche scelta di level design molto punitiva, ragion per cui è importante non esagerare, prendersela lentamente, con calma nella fretta girandoti tutto quanto, e trovi i livelli speciali, torni indietro e riparti svicolando tutto a dritta. Ma la trama? Vabbè classico dei classici, Sonic che rincorre Eggman, Dottor Villano, coi suoi robot, dove qui c'è peraltro una cinquina pesante, che è proprio ferro anziché piuma, e l'importante è sempre salvare le bestioline ingiustamente intrappolate. Difatti la parte migliore resta sempre il design generale, a parte le bestioline adorabili, proprio il guardare, il completo e tornare l'onestà, con la scusa di appallarsi sparati a tremila. Devo essere sincero, quasi infastidisce il non poter vedere bene, godendo appieno di quanto sia tutto imbastito, splendido, splendente. Non so, Menia è quell'anello di congiunzione tra passione e celebrazione, che fa capire come si possa creare qualcosa di bello con la giusta direzione, sia artistica che morale, perché se non ci fosse stato, alla base, un profondo rispetto, oltre che amore per quello che è Sonic, dubito intensamente sarebbe sbucato qualcosa del genere. Anzi, sarebbe venito tutto stiantato in fiamma e esploso pelato, tant'è che sono fermamente convinto che tutti gli omaggi, festeggiamenti, anniversari, e battena, pescati, qualsiasi cosa, dovrebbero prendere e imparare da qui. In primis, le aziende studi chi cazzo è che anziché abbattere proprio eutanasia di progetti amatoriali, mettendo sulla sedia elettrica i vari team, dovrebbe prendersi questa letterale forza lavoro e impiegarla per il proprio bene e quello di tutti. Vabbè, è chiaro, quando è obiettivamente di qualità, certo un minimo di controlli dovranno pure averla. Dico nell'ottica di opere dal valore lapalissiano, anche se oddio, considerando l'abisso che c'è tra Sonic classico e Sonic moderno, dubito ci voglia poi troppo, ma considerando gli standard della fanbase, alla peggio uscirà sempre qualcosa di buono. Ma poi tra tutti la Sega con le robe blu che vanno a 3000 nessano, cioè loro in primis a oggi non hanno idea di come cazzo si sono inventati F0 GX, se le sbagliano loro ste cose tanto vale che vanno a dormire sulle rotaie.